alessio e la vigna sempre più complici moltissimi fan continuano a seguire la bellissima coppia di uomini e donne anche dopo l'uscita dal programma i due ragazzi sono molto amati ed entrambi hanno conquistato molta visibilità ragazzi vivono la loro storia purtroppo a distanza perché vivono in città diverse quindi per questo non si possono mostrare sempre insieme ma da ben nove mesi da quando si sono scelti a uomini e donne tutto procede bene nei scorsi giorni sono stati in vacanza sulla neve e dopo hanno festeggiato il loro nono mesi versario e hanno pubblicato sui social un video con i loro momenti più speciali momenti di gioia e mesi sfrenati e molto intensi la vigna conclude con una frase auguro che ogni giorno sia sempre come il primo e di innamorarci sempre ad ogni sguardo augurissimi ragazzi